l'8071 collezione di biglietti postali in quattro album biglietti postali interi postali così si dovrebbe vedere ci sono anche delle ripetizioni come potete vedere nuovi e usati sicuramente sopra il nuovo e sotto ci sarà l'usato ci sono anche interi postali in euro questo è uno qui siamo i biglietti postali questo è vuoto cartoline qua siamo negli anni 80 anche qua ci sono le ripetizioni sicuramente sopra il nuovo e sotto l'usato e per finire il quarto e ultimo volume se volete altre video informazioni iscrivetevi a filateliacchiocciolacquattrobaiocchi.com grazie